Buongiorno a tutti, in questo video voglio andare a discutere riguardo un tema molto interessante soprattutto per chi sta valutando con che strumenti andare ad investire sul mercato del Forex quindi io andrò a mostrare due degli strumenti che utilizzo appunto per fare trading sulle valute farò vedere i grafici di Euro-Dollaro, quindi coppie diciamo principe di questo mercato e andremo a vedere due tipologie di strumenti finanziari che diciamo ci danno la possibilità di investire nel mercato delle valute il primo è il CFD e il secondo è il certificato Turbo 24 certificati a leva quindi in questo momento quello che vedete qui diciamo sopra di me è il grafico di Euro-Dollaro è il grafico scuro vedete con il layout scuro perché poi vi farò vedere quello con il layout chiaro più che altro per identificare una piattaforma o un'altra come notate qui sopra eccolo qua c'è scritto Arduino Schenato CFD questo qui è un conto reale CFD quindi contract for difference, contratto per differenza e questo diciamo che è uno dei modi più conosciuti e più comuni per andare a investire nel mercato delle valute per andare a fare delle operazioni di trading nel mercato delle valute come si va a lavorare con il CFD e poi vedremo come si lavora invece col certificato Turbo 24 è simile ma non è proprio uguale allora guardate se io voglio andare a fare un acquisto o una vendita sull'Euro-Dollaro come potete notare basta che vado a cliccare sell o buy è semplicemente è semplice e diciamo che in linea di massima si va a tradare diciamo a fare l'investimento attraverso dei contratti appunto i contratti per differenza e in questo caso come potete notare si parte da un contratto mini fino ad andare a più contratti quindi 1, 2, 3, 3,5 insomma si possono anche smezzare eccetera in questo caso ogni contratto come avrete visto o come sapete ma comunque come avrete visto anche da la parte quella, la playlist, quella del trading per principianti dove faccio vedere margine, pip eccetera eccetera a ogni mini contratto 10.000 dollari di Euro-Dollaro corrisponde 1 dollaro per ogni pip come c'è anche scritto qui quindi se io vado a prendere e fare così come potrete notare inizia ad allargarsi qui sotto il ticker quindi va a creare, va a dirci, quindi creare un po' i presupposti per entrare al mercato dicendoci la richiesta di margine che occorre per fare trading sull'Euro-Dollaro con un mini CFD o mini contratto quindi per esempio se io volessi andare a comprare Euro-Dollaro e comprare 10.000 Euro-Dollaro in questo momento al prezzo attuale ovviamente perché non sto in ordine ma sto direttamente su trade quindi trado a mercato se io clicco qui inserisci ordine lui mi va direttamente a mercato ovviamente questo è un conto reale adesso non farò vedere che vado a mercato ma voglio far capire che tipo di differenza c'è, che non c'è una grandissima differenza però ci sono alcune cose che è giusto che voi sappiate e quindi poi valutate voi se vi piace di più investire magari attraverso i CFD o attraverso i certificati di Turbo o magari anche con entrambi quindi in questo caso vedete un mini contratto quindi un dollaro per punto quindi ogni pip significa che da 1,21 e 65 facciamo un esempio l'Euro-Dollaro va a 1,21 e 85 quindi fa 20 pips vuol dire ogni pip mi vale un dollaro 20 pip 20 dollari che al cambio attuale saranno circa 17, 18 euro, 16 euro se al contrario invece dovesse scendere di 20 pips è uguale solo che in questo caso invece di guadagnare questi 20 dollari perderò 20 dollari è ovviamente uguale e per fare questa operazione io ho bisogno di avere sul conto almeno 333 euro che è praticamente vedete la richiesta di margine è ovvio che non vi consiglio di mettere 333 euro sul conto e di tradarli tutti perché andreste subito a avere praticamente messo a margine l'operazione praticamente tutti i soldi del conto e questo insomma non è il massimo quindi per fare un certo tipo di trade di questo tipo come vedete state lavorando con un controvalore di 10.000 euro-dollaro quindi come dico sempre è meglio non utilizzare la leva quindi fare una leva 1 a 1 o al massimo leggermente più alta e quindi almeno avere per fare un'operazione del genere 5-6.000 euro nel conto per lavorare con un mini cioè vuol dire poco più di una leva è una leva 2 circa o un po' meno o addirittura averne 10.000 e lavorare con 10.000 quindi andare in leva 1 ma in realtà voi la leva da utilizzate perché il broker vi dà la richiesta di margine quindi in realtà per fare un trade con 10.000 euro-dollari quindi con un mini contratto non serve che voi abbiate per forza 10.000 euro sul conto ma basta averne così ok 333 quindi in questo caso l'operazione come si va a creare si fa praticamente si vuole entrare per esempio con un mini contratto si sa che bene o male su questo su questo mercato se dovesse esserci un ribasso non so facciamo esempio di oltre 300 pips non ho più non voglio più stare a mercato quindi se io investo un dollaro per ogni punto vuol dire che se la mia massima perdita la identifico all'incirca di 300 pips significa che avrò 300 per un dollaro 300 dollari quindi circa 270 euro i cambi attuali euro più euro meno di diciamo di investimento di rischio massimo quindi parliamo in dollari 300 dollari più i 333 euro 405 dollari significa che io in dollari vado a mettere a disposizione di questa operazione i 300 dollari più però in effetti 405 dollari che non sono al momento almeno a rischio dell'operazione ma vanno a margine dell'operazione e quindi comunque li vado a utilizzare per fare questo trade in realtà è un trade che ha un controvalore 10.000 dollari quindi comunque diciamo che linea di massima è un investimento minimo in realtà però il mio consiglio è sempre quello come dicevo di avere un conto almeno pari o appena un po' meno di quello che poi andate a investire come controvalore appunto per non utilizzare praticamente la leva o utilizzarla poco poco perché sapete già detto in mille video precedenti che la leva poi vi porta anche a livello emotivo a gestire male le cose quindi vedete che mi serve questo quindi una volta che io ho la situazione creata posso andare a inserire uno stop per esempio abbiamo detto di 300 pips eccolo qua quindi vedete lo stop è qui 300 dollari che probabilmente appunto basterebbe fare un po' rischio cambio comunque fate esempio che siano circa 270 euro quindi il mio massimo investimento è lì nel caso in cui dovesse andare lì verrei colpito dallo stop e quindi il broker direttamente andrà a chiudermi l'operazione in perdita in quel caso per massimo 300 dollari si può anche addirittura mettere uno stop garantito che praticamente significa che anche su eventuali gap di prezzo io comunque vengo eseguito però parliamo normalmente e diciamo che si fa così ovviamente io posso comunque decidere di chiudere l'operazione prima sia in guadagno che in perdita se vedo che sono entrato long e l'euro d'oro inizia a scendere più del dovuto posso anche decidere prima per qualsiasi situazione che ho studiato anche nel mente dell'operazione di andare a fare una chiusura anticipata però questo è quindi io vado a investire 300 dollari diciamo di stop però con questa richiesta di margine di 333 euro che vanno praticamente a margine dell'operazione quindi nel mio conto si dividerà anche questa parte e quindi è diciamo un capitale diciamo bloccato nella piattaforma che io non posso utilizzare andiamo sui turbo 24 perché l'operazione in realtà è simile quindi prendo la piattaforma bianca come potete notare qui c'è scritto arduino cfd qui c'è scritto arduino turbo 24 anche questa è una piattaforma reale mia allora in questo caso praticamente è molto simile la situazione però ci sono delle differenze se voglio sempre investire long vedete qui è molto semplice perché c'è il riquadrino che dice short long quindi short sappiamo che è se voglio vendere euro dollaro long se voglio comprarlo quindi vado a fare una operazione simile diciamo a quella che vi ho appena mostrato e quindi in questo caso già si differisce perché cliccando long vedete si vengono a creare tutte queste questi livelli diciamo che sono che cose livelli knock out cioè sono livelli dove se io vado a cliccare quindi a diciamo utilizzare uno di questi livelli che diventano praticamente il mio stop loss chiamiamolo così cioè il mio massimo rischio il mio massimo investimento un po' come quei 300 dollari delle operazioni prima sul cfd in questo caso però è proprio un massimo investimento quindi se io vado a prendere facciamo un esempio siamo a 21 60 62 e voglio avere circa 300 punti dal mio stop in questo caso non posso deciderli io perfettamente ma devo cercare di capire dove è il punto più vicino a questi 300 pip quindi andiamo a vedere appunto che tipo di livello knock out prendere prendiamo quindi sempre i 300 pips diciamo come prima in questo caso il livello più vicino ai 300 pips è il 18 56 quindi 19 20 21 in questo caso clicco eccolo qui abbiamo praticamente inserito il massimo investimento di circa 300 pips come quello là e in questo caso ovviamente vado a mercato cioè la stessa operazione di prima in questo caso guardate io vado a prendere la quantità di certificati che mi dà più o meno questo investimento di 300 euro come prima in realtà rimane a 300 dollari facciamo facciamo l'esempio di 270 euro così siamo più corretti nella nostra nella nostra diciamo esempio operativo nel nostro esempio operativo quindi andiamo a vedere qui guardate 100 con 100 certificati turbo a questo livello avremo 308,50 di contro valore cioè sarebbe praticamente il massimo investimento quindi il punto dove arrivati lì si chiude l'operazione con una perdita di questo tipo quindi dobbiamo stare un po più bassi per arrivare a 270 che è circa l'operazione che vi ho fatto vedere prima eccolo qua mettiamo conto che in questo caso noi utilizziamo 88 certificati che significa 270 euro di massimo investimento quindi vedete che in questo caso è anche forse più semplice soprattutto perché all'inizio perché non ho un margine cioè io decido se comprare o vendere vado su long o short ho dei livelli che posso utilizzare come massimo rischio tra l'altro questi sono livelli come se fossero degli stop garantiti diciamo e vado a inserirli e non e non ho un margine quindi non ho in più anche quei 300 x euro della del margine che mi va diciamo a fianco dell'operazione quindi un capitale che è bloccato come quel cfd no in questo caso decido che voglio rischiare x in questo caso 270 euro che sarebbero i 300 dollari di cfd perché con il cambio è circa quello benissimo 270 euro li metto qua e quindi andrò a inserire la quantità di certificati turbo da comprare long ok e andrò a fare anteprima ordine e poi clicco e vado direttamente a mercato quindi in questo caso praticamente l'operazione è molto simile ho investito sempre sull'euro dollaro solo che nel caso iniziale ho usato un cfd che con lo stesso rischio ma con anche un margine a garanzia dell'operazione mentre con i turbo ho fatto un rischio dello stesso tipo ma senza quel margine in più cioè quello che io vado a investire un po il controvalore dell'operazione che se andiamo a vedere bene quindi torno indietro se vado a prendere questi 1856 vedete che c'è scritto leva 40 che cosa significa che se io metto i 270 euro che voglio rischiare per i 40 di leva vuol dire che io sto andando a prendere circa quei 10.800 euro che sono più o meno quei soldi che avevo investito col cfd quindi non cambia in realtà diciamo la leva vera cioè sul mio conto perché se io ho un conto di 10.000 euro e lavoro con un mini contratto e faccio questo tipo di operazione bene o male ho usato un controvalore che è simile a quello che ho nel conto seppur ho uno stop di 270 euro stessa cosa con i certificati è vero che qua dice leva 40 ma la leva 40 è sul mio controvalore quindi su quello che è praticamente il mio investimento massimo in questo caso 270 euro per i 40 di leva 10.000 euro quindi in questo caso praticamente è uguale quindi vado a mettere 40 gli vado a mettere abbiamo detto 87 mi sembra long ovviamente aspettate che faccio mercato eccolo qui 88 ed ecco che praticamente noi abbiamo questo investimento e il controvalore è quello è un po' come quando si investe diciamo nelle azioni dove io voglio investire non so 5.000 euro nelle azioni apple e quindi investo quei 5.000 euro nelle azioni apple in questo caso investo 270 euro sull'euro dollaro investo ovviamente con la leva vuol dire che in realtà il mio investimento 270 per 40 fa 10.000 euro di controvalore però ovviamente io devo sempre avere dei rischi che sono basati diciamo sul mio conto e oltre che sulla mia esperienza sulla mia propensione al rischio eccetera però vedete che è molto simile la situazione diciamo che con i turbo non si ha questo accantonamento anche del margine lavorano tutti in euro quindi non ho da fare un cambio in tra dollari euro ma è direttamente tutto in euro l'ultima cosa molto importante che dovete sapere quando investite nel forex perché c'è questa cosa sapete che ogni notte se io sto a mercato io personalmente non sto praticamente mai a mercato un giorno solitamente sto qualche giorno a mercato cioè cerco di prendere dei movimenti un po più ampi del mercato e ogni notte c'è il rollover delle posizioni e questo nel forex può portare a degli accrediti o degli addebiti di valuta diciamo che si basa sul differenziale dei tassi più il prestito della leva e quindi alla fine voi avete un x che può essere accredito a debito quindi col cfd ogni notte il broker vi addebito vi accredita in base a che valuta avete comprato se avete comprato una valuta che è più alto tasso avrete un accredito se avete venduto una se avete comprato una valuta che è più basso tasso avrete un addebito e lo avete direttamente nello statement del broker ogni notte nell'estratto conto troverete sono al momento attuale sono sempre state negli ultimi anni molto basse e queste diciamo sia accrediti che addebiti nel momento in cui invece lavorate con un turbo questa commissione chiamiamola così questo addebito a credito c'è lo stesso ma è inserito all'interno dell'operazione stessa quindi ogni notte praticamente si alza un po il livello dell'operazione knockout e praticamente questo crea praticamente va a assorbire diciamo i costi overnight il rollover quindi alla fine non cambia nulla il costo identico solo che se un'operazione non so in questo caso l'euro dollaro facciamo esempio avete investito 270 euro e andate a incassare 150 euro dopo qualche giorno del vostro trade magari avete non so speso in quei cinque sei giorni non so un euro e mezzo di overnight due euro di overnight benissimo lo vedete quindi vedete non so i 150 euro guadagnati meno ho fatto un po di conti meno i due euro di overnight sul turbo 24 invece di vedere i 150 euro meno 2 euro magari vedete il 148 direttamente quindi ha già assorbito dal prezzo bene io ecco per concludere vi dico che tendenzialmente uso entrambi gli strumenti per operare nel forex ovviamente i cfd li uso da tanto più tempo perché sono più storici sono degli strumenti che insomma sono veramente per il forex forse più conosciuti e quelli un po più utilizzati quindi io li utilizzo tanto tempo da ormai un annetto ho iniziato a conoscere anche i certificati turbo 24 grazie al mio broker e quindi in linea di massima questo mi ha permesso anche di lavorarci un po su e devo dire che sono molto interessanti e che diciamo hanno veramente un impianto a livello proprio operativo che si adagia bene sulla mia operatività e sul mio approccio al trading e quindi insomma vi consiglio anche di provarli anzi metto un link in descrizione se volete provarli potete provare direttamente magari cliccando il link in descrizione se del video se volete provarlo bene io a questo punto ho detto tutto vi auguro ovviamente una buona giornata prima di lasciarvi vi chiedo di lasciare un bel mi piace perché so che molti di voi mi chiedono a volte un po più di spiegazione riguardo questi strumenti così ce l'avete qui lasciate un bel mi piace e attivate la campanellina e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto io vi saluto vi auguro ovviamente una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti